Il live action di One Piece ha veramente risposto a una teoria che da tanti anni circola nel web? C'è una teoria, infatti, che accompagna molti fan di One Piece, soprattutto lettori del manga, che riguarda Crocodile. Infatti, durante la saga di Impel Down, c'è una battuta che Ivankov, uno dei leader dell'armata rivoluzionaria, fa a Crocodile, dicendo di conoscere la sua debolezza, il suo più grande segreto. La reazione scomposta proprio di Crocodile e la sua rabbia a questa battuta di Ivankov potrebbe riguardare proprio il cambio di sesso dello stesso pilata. Infatti, Ivankov ha il potere di cambiare il sesso delle persone tramite il frutto del diavolo che ha mangiato. Non sarebbe una sorpresa, anche perché il live action di One Piece ha mostrato la versione femminile, in teoria, proprio di Crocodile. Ante l'esecuzione di Goldie Roger, infatti, sappiamo che tutti i membri della flotta dei sette erano presenti, mentre il re dei pirati veniva ucciso. E anche in uno dei disegni in cui Oda ci ha regalato l'esecuzione, vediamo dei giovani di Oak e tutti gli altri della flotta dei sette assistere all'esecuzione stessa. Tra questi, nel manga, vediamo appunto Crocodile, però di spalle. Non sappiamo il volto di quel pirata. Al contrario, la stessa scena fatta nel live action, inquadrando un giovane di Oak, un dragon dell'armata rivoluzionaria e molti altri virati protagonisti della saga, mentre si stavano all'esecuzione, insieme a loro c'era anche una donna che potrebbe essere appunto Crocodile. Non si hanno conferme di questo, però molti fan hanno ipotizzato che quindi la teoria che Crocodile fosse una donna in passato potrebbe essere vera. C'è un'altra teoria che accompagna questa, che va praticamente a brancetto. Il live action di One Piece ci ha mostrato uno scontro fra Zoro e Mr. Seven, soltanto appena accennato da Oda nel manga. Uno scontro che era molto importante appunto per lo sviluppo del Zoro e per far conoscere inizialmente le Barock Wars, comandate proprio da Crocodile. Questo ha significato che il live action potrebbe introdurre o ampliare quei discorsi che Oda ha soltanto accennato nel suo manga e nella sua creazione. Proprio per questo la supervisione di Oda è stata fondamentale per il grande successo che ha riscontrato One Piece e con il rinnovo della seconda stagione. Molto probabilmente avremo più informazioni per quello che riguarda Crocodile. Non è da escludere che magari ci sia un accenno al passato di Crocodile proprio con Ivankov magari, perché no? La teoria che accompagna quella precedente appunto riguarda la mamma di Luffy, perché nel passato di Luffy non c'è la mamma, non si hanno notizie di chi sia la mamma di Luffy e molti pensano che proprio Crocodile fosse la mamma di Luffy. Perché? Non ci è dato saperlo, anche perché l'utente che aveva postato questa incredibile teoria ha poi cancellato il suo post su Reddit, quindi è evidente che a fondamento di questo non c'è niente. Però Oda stesso ha confermato che la donna è viva e che prima o poi potrebbe apparire nel manga. Invece a sostegno del cambio di sesso di Crocodile ci sono molti indizi sparsi qua e là proprio tolata nel manga. Infatti in uno dei capitoli del manga c'è una copertina con scritto Segreto di Donna, intitolata così. Infatti in uno dei capitoli del manga c'è una copertina dal titolo Segreto di Donna con un Crocodile in prima pagina. Questo ha supporto anche di un gioco fatto da Oda stesso, cambiando il sesso dei membri della flotta dei sette in cui appare appunto una Crocodile donna. Alcuni indizi che potrebbero veramente supportare queste ipotesi è perché avrebbe del clamoroso, anche se ormai molti dei fan di One Piece conoscono questa teoria. E devo dire che vedendo il Crocodile versione femminile un po' ci sta. È una teoria che appoggio con tutto me stesso perché un Crocodile alla flessione femminile sono molto curioso di vederlo, sperando che magari lo cambiano direttamente nel live action, visto che la seconda stagione ci racconterà proprio delle Baroque Wars e avrà, come sicuramente pensiamo tutti, un Crocodile come villain principale. Ragazzi, mi sono divertito a cercare queste curiosità per farvi un video e parlarci un minimo, quindi vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Vi porto di seguire Ciaccazione sui nostri canali social, Facebook e YouTube. Io sono Valerio Verrone e da Ciaccazione è tutto. Buona giornata.